allora buon pomeriggio a tutti come vedete anche oggi quattro gatti quattro amici al bar proprio qui a piazza san giovanni vedete stanno davanti a la chiesa di san giovanni quattro gatti a casa la piazza san giovanni io non so che cosa bisogna fare ai romani e gli italiani a questo punto per far sì per farli uscire da casa questo dico oggi c'è anche l'unione con le associazioni delle macchine storiche vede una lanciatelta una mercedes una panda una lanciagamma e altre macchine che vediamo subito dopo praticamente questo questa è l'italia questa è l'italia io non so come dire le cose farvi vedere le cose quello che mi dispiace di più che lamentate soltanto sui social qui abbiamo l'autorizzazione fino alle 19 19 30 poi dopo dobbiamo andare via dobbiamo andare la la cosa più più brutta è questa praticamente e niente io sto qui insieme a alcuni amici sullo sfondo vediamo nicola poi c'è quello che ha appena il presidente dell'associazione delle auto storiche e niente complimenti a voi romani complimenti a voi italiani ricordate che tra poco tocca alle case e poi ai conti correnti postali e bancarie perché ci stanno dovranno mettere una tassa anche sui nostri conti di risparmi che abbiamo sia la posta che in banca a secondo quanto ci abbiamo dentro affinché fino all'eliminazione diretta del contante entro cinque anni quindi non non ve lamentate complimenti buona serata